Ancora oggi, nel 2023, parliamo di destra e di sinistra. Alcuni politici li definiamo appunto appartenere a una tradizione di destra e altri a quella di sinistra. Ma quando è che questa distinzione si è creata? E cosa vuol dire, ad esempio, appartenere alla sinistra? Una sinistra che poi ha assunto, ad esempio, delle caratteristiche particolari andando a definirsi in maniera specifica soprattutto come socialismo, andando quindi a prendere con sé tutte quelle istanze sociali che soprattutto scoppiarono con l'avvio della rivoluzione industriale. Questa non è una domanda banale, perché ovviamente ci sono delle problematiche che hanno origine sin dal momento in cui questa distinzione è nata. Infatti, se andiamo a vedere, è durante la rivoluzione francese che abbiamo una prima caratterizzazione di destra e sinistra. Infatti, è con la rivoluzione francese, in particolar modo dal 1791 quando si afferma una prima costituzione in cui il potere del monarca, del re, viene posto veramente a sorveglianza di un'assemblea che deve controllarne appunto il suo potere. Questa concezione di un monarca che viene bilanciato da un potere legislativo tuttavia non poteva essere vista soltanto in un'ottica unilaterale ma c'erano da una parte coloro che volevano che il popolo che il potere legislativo in particolar modo avesse più peso rispetto all'esecutivo volevano che tutti quanti potessero votare volevano che, ad esempio, alcuni privilegi ancora in auge venissero del tutto aboliti e anzi, alcuni volevano proprio che il monarca non avesse alcun potere. Già da questa distinzione e quindi anche dal veto che il monarca aveva la facoltà di porre sui vari interventi legislativi che venivano fatti bene, qui si andò a distinguere una destra e una sinistra appunto chi alla sinistra del re rispetto appunto al trono andava a propugnare delle istanze più vicine al popolo e quindi a tutta quella concezione che si rifaceva in particolar modo molto a Jean-Jacques Rousseau mentre invece dall'altra vi era una destra quindi una compagine più moderata che vedeva nel monarca una persona con cui starare un rapporto di fiducia ma anche di trasformazione per passare appunto da una società ad ancien régime ad una società in cui i diritti dell'uomo potevano essere affermati e potesse venire affermata anche una nuova libertà sia economica che sociale beh da questo punto di vista allora cosa andiamo a notare? in particolar modo da qui nasce quindi questo pensiero di sinistra e come vedete questo pensiero di sinistra va ad affermare una contrapposizione quasi tra il sociale e l'individuale ma non è una contrapposizione netta cioè il sociale non vuole del tutto escludere l'individualità tuttavia trova invece nel comportamento opposto ovvero di un individualismo sfrenato il problema della nuova società infatti tutto quanto dovrebbe essere in qualche modo socializzato questa componente sociale deve essere salvaguardata quindi a chi diceva appunto che bastava soltanto una libertà economica e individuale e tutto quanto dovesse essere lasciato al pensiero della singola persona e alle azioni della singola persona dall'altra parte la sinistra pensavano invece che era problema di tutti l'azione individuale, la libertà individuale e anche la realizzazione individuale ovviamente questo è in maniera stratta ma in particolare cosa vuol dire? beh se è caduto l'azienda regime tuttavia ci sono ancora delle disuguaglianze anzi forse alcune stanno anche crescendo viene fatto fuori tutto un mondo che prima era anche collegato a delle strutture di solidarietà e mentre adesso invece se tutto quanto è in mano alla propria azione individuale e quindi anche soltanto alle proprie capacità ecco che alcune persone potrebbero avere molti problemi anzi sicuramente cresceranno molti altri problemi problemi che c'erano ovviamente anche prima e che il nuovo mondo che si è staurato dopo la rivoluzione francese in parte ha risolto ma se ne stanno creando appunto dei nuovi e allora queste persone di sinistra vanno a promuovere una felicità e un benessere per tutti quanti i cittadini dall'altra parte poi vi è anche una diffidenza verso i politici e la politica poiché incomincia ad avere veramente una grande importanza la questione della produzione infatti sono i produttori che dovrebbero prendere in mano il potere politico e sociale e garantire che la società possa avere appunto un'equa distribuzione dei vari redditi, della proprietà e far vivere tutti nella realizzazione di se stessi e quindi c'è anche questa diffidenza vengono visti soltanto come coloro che in qualche modo equilibrano le varie forze ma non trovano in realtà una soluzione ai problemi reali, delle disuguaglianze di chi non ha avuto la possibilità di ottenere un qualcosa di nuovo e ha perso tutto durante la nuova rivoluzione francese o magari è comunque rimasta in una situazione di indigenza c'è un altro punto poi la cooperazione viene contrapposta alla competizione se il mondo doveva essere lasciato solamente alla propria libertà individuale alle proprie azioni senza alcun legame e costrizione che dovesse venire dalla collettività in alcun modo beh, allora vi era una competizione accentuata mentre invece questi pensatori di sinistra arrivano non ad escludere la competizione totalmente ma in parte a inglobarla in un sistema di cooperazione infatti deve essere contrapposta ad essa questa cooperazione per anche agevolare la competizione ma tutto ciò non deve divenire uno scontro fra uomo e uomo non ci deve essere appunto una rapacità nei rapporti sociali che vada a ledere la dignità dell'uomo e lo porti all'indigenza questa quindi concezione più sociale andò quindi a definirsi negli anni attraverso l'ottocento come socialista ma cosa vuol dire socialista? beh, ha una pluralità semantica ovviamente socialismo ha cambiato come significato durante i due secoli che appunto ci frappongono fra noi e l'inizio dell'attività di questa parola in politica ma socialismo quindi però rimanda a dei concetti di socialità, comunità beh, quindi a questa prevalenza del collettivo del sociale sull'individuale bene, però quando è che nasce questa parola allora socialismo? beh, ne abbiamo delle prime avvisaglie soprattutto nei primi anni dell'ottocento ma in particolar modo su un gruppo di socialisti o humanisti che vedremo in un altro video nel loro giornale si definirono appunto dei socialisti socialisti che quindi andavano a concepire questa struttura sociale e comunitaria contrapponendola appunto a una visione più individualistica insieme a tutte quelle connotazioni che abbiamo visto finora però c'è anche un'altra considerazione da fare che il pensiero socialista il pensiero di sinistra va radicalizzandosi sia con l'esperienza giacobbina ovvero quella che vide soprattutto fra il 1793 e il 94 l'affermarsi di una vera radicalizzazione democratica che sfociò anche in una dittatura quella di Robespierre e del Comitato di Salute Pubblica beh, ma qui venne fatto un testo molto importante che non venne mai applicato ma che era la Costituzione del 93 questa Costituzione aveva dei connotati veramente diversi rispetto a quella del 91 tale Costituzione proponeva alcuni cambiamenti radicali infatti il potere doveva essere assolutamente del popolo ci doveva essere una preeminenza del potere legislativo sul potere esecutivo il Consiglio che era in particolar modo il potere esecutivo doveva essere eletto solamente da parte delle assemblee primarie che venivano fatte all'interno del territorio nazionale e che poteva essere revocato addirittura ogni anno per la metà dei suoi membri e dopodiché l'ultima istanza l'ultima parola l'avrebbe avuta sempre il popolo un'altra considerazione molto importante il testo Costituzionale poteva essere sempre revisionato perché il potere in fin dei conti era sempre del popolo e quindi quel testo non era vincolante quel testo sì dava delle regole stabiliva che vi erano appunto degli organi da dover istituzionalizzare per poter governare il paese e risolvere i problemi ma quel popolo poteva cambiarle sempre quindi la Costituzione era un atto fondativo che però era il popolo a fare e quindi questo si poneva nettamente in contrasto con la Costituzione del 91 che invece sanciva che quelle erano le regole andavano rispettate e che non vi era possibilità di cambiare quella Costituzione quella era fondativa della società mentre invece in quella del 93 è il popolo a fondare la società attraverso la Costituzione che può sempre cambiare questa Costituzione del 93 non fu mai applicata infatti poi dopo il governo di Robespierre ci fu un ritorno ad una Repubblica con dei correttivi e con un direttorio che aveva un potere molto influente ed è proprio in questi anni, nel 1796 che però Gracco-Babeuf insieme ad un suo circolo fece una congiura la congiura degli uguali si radunò in maniera insurrezionale cercò di attuare questa rivoluzione ma come voleva farlo? voleva farlo prendendo il potere una piccola minoranza, quella del suo circolo doveva provare a fare una congiura e prendere il potere quindi questa elite facendo un'insurrezione con il popolo doveva poi attuare quei principi della Costituzione del 93 e ridistribuire la ricchezza in particolar modo andare quindi contro la proprietà privata che creava le disuguaglianze e ridistribuirla attraverso tutti coloro che erano rimasti scontenti dalla rivoluzione e un altro fattore fondamentale del pensiero socialista e di sinistra ovvero questa concezione della collettività del sociale sull'individuale della produzione, dei produttori di coloro che lavoravano di coloro che subivano le disuguaglianze economiche come doveva essere attuata? con la forza? con l'insurrezione? come fece Babbeuf? oppure doveva essere fatta all'interno del quadro democratico stabilito da dopo la rivoluzione francese ma in questo quadro democratico viene comunque delle resistenze molto forti delle resistenze anche violente da parte di alcune classi sociali che difendevano i propri interessi e quindi era giustificata oppure no questa ad esempio presa del potere con la forza? beh questi furono quindi dei problemi importanti che la sinistra si portò dietro per tutte e due i secoli ma quindi vediamo che già adesso andarono a definirsi molto bene e soprattutto andarono a definirsi all'interno di questa cornice che vede due concezioni del mondo realmente contrapposte io spero che questo video vi sia piaciuto vedremo nei prossimi video i particolari dei vari socialisti che andarono ad impegnarsi nelle lotte sociali durante il XIX secolo e cercare di definire meglio questo pensiero mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti mettete mi piace e iscrivetevi al canale e seguitemi anche sui social su Instagram e sul nuovo canale Telegram che posterò sui social al prossimo video un saluto da Sir Fedrick